Uruk era il vero campione di Kambak. Ed era anche mio figlio. Uruk è sate, sottileghi sottò. Sottome che laniera, partili di fonda. Quei avevano. Scianatere me, nasa. Colteve tre pato. Ho cercato di proteggerlo. Ma non ero abbastanza forte. I maghi decisero che sarebbe stato il loro campione. Ma dopo le sue tante vittorie, il re si vendicò su ciò che Uruk amava più di ogni cosa. La famiglia. No! 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 Paola rabbia.